Ciao, iscriviti a certi diritti perché la morale non abbia il sopravvento sulla scienza, perché le persone tutte possano esprimere liberamente la loro sessualità, perché il tuo fratello, tua sorella, tuo figlio, il tuo amico possa avere i diritti che tutti hanno in Italia. Iscriviti a certi diritti perché non è necessario essere LGBT eccetera o avere un orientamento sessuale di diverso per credere in una battaglia laica. Grazie a tutti.